Pietro ASMR Ciao a tutti ragazzi Come va? Spero tutto Super 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 Benvenuti o bentornati in un mio nuovo video Oggi abbiamo la seconda puntata della rubrica Pietro ASMR Tech Quindi il nostro secondo appuntamento Infatti quando ve l'ho proposta con il prodotto Witty che ha riscosso notevole successo È piaciuta a molti di voi se non a tutti e quindi ho scelto di continuarla e di portarla avanti Oggi andremo a vedere e a recensire un prodotto molto più importante di quello scorso Ovvero un microfono USB da tavolo Andremo ovviamente a farne l'unboxing e andarlo poi a confrontare con uno dei microfoni più importanti, famosi, conosciuti al mondo Prima di cominciare ragazzi vi ricordo di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto L'obiettivo infatti sono i 20.000 iscritti entro, fino a aprile La vedo un po' dura ma non si sa mai In più se volete avere sempre aggiornamenti sul canale andatemi a seguire su Instagram, link in descrizione Detto questo io direi di prendere alla mano il nostro carissimo microfono Di cui ringrazia davvero di cuore l'azienda Maono Scritta qua sopra Maono, 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 Maono Per avermelo spedito, per poterlo testare in video E' caduto proprio a pennello con la nuova rubrica direi Questo in particolare è il microfono USB Maono Au 903 di cui troverete il link Amazon in descrizione Oltre anche al link dello shop ufficiale Direi che la scatola si presenta davvero molto molto bene E' una confezione più che raffinata Parliamo di un microfono che ha il costo di 80 euro E io l'ho testato ormai E devo dirvi la verità Ne vale, ne vale Perché comunque parliamo della metà del costo del Cluietti E ovviamente non potremo paragonarlo moltissimo a lui Proprio perché sono due qualità differenti Ma per il prezzo che vale Lo consiglio davvero tantissimo Ma direi ora di andarlo a scartare Qui comunque vediamo già sulla confezione Che ha due modalità La cardioide e la omnidirezionale Ovviamente si possono attaccare le cuffie E con i ricerche quant'altro Qui sono le tue capsule del microfono E quant'altro comunque Davvero scatola impeccabile Poi qui abbiamo la scritta Fairy Che richiama Fairy ASMR Chi lo sa Allora Sfiliamo in questa maniera La mettiamo da parte Troviamo questa bella scatola nera Come altro prodotto per il P3SML Tech Avrei intenzione di portare lo Xiaomi Mi Band 6 Perché è stupendo come lo hanno rivoluzionato Quindi credo proprio che lo andrò a prendere Per sostituire il mio Mi Band 4 Allora Andiamo ad aprirlo Allora Qui che mi sono cadute Troviamo queste piccole palline per i utori Immagino che avevamo trovato anche nella confezione del bruglietti Che mettiamo da parte Poi abbiamo qui dei semplici manuali Ma quello che ci interessa a noi è lui Devo dirvi davvero Un scatolamento molto ma molto elegante Allora qui abbiamo la gomma piuma Direi di sfirare il nostro microfono Perfetto Perfetto Eccolo qui Davvero super super compatto E molto molto leggero Lo mettiamo qui un attimo Poi in quest'altra parte Troviamo accessori Che non è altro che il cavo Necessari per collegare Il microfono al pc Per poter registrare l'audio Vediamo insomma come si presenta Vedete qui Ha un attacco USB Quindi un attacco type C Che va inserito nel microfono E di qua troviamo l'attacco USB Classico da collegare al computer Per poter poi registrare l'audio Molto semplicemente Allora Mettiamo la nostra scatola da parte E vediamo più nel dettaglio Cosa troviamo davanti a noi Ok Eccoci qui Già da queste immagini Potete notare le dimensioni compatte Che si ritrova ad avere questo microfono Avvicinandoci Oltre a individuare il logo della Mahono Troviamo anche una rotellina necessaria Alla regolazione del gain E poco più in basso La rotellina necessaria invece Alla regolazione del volume Che risulterà essere sia quella in uscita Che quello che andrete a sentire All'interno delle vostre cuffie All'interno delle vostre cuffie Ruotando il microfono e spostandoci Nella parte posteriore Andiamo a individuare il piccolo bottoncino Necessario per scegliere la modalità Desiderata per la registrazione Se omni direzionale o cardioide Troviamo poi il jack per inserire le cuffie Ed infine l'attacco type C Per poter collegare il microfono al computer Bene ragazzi Siamo ora passati dal Blue Yeti Al Mahono Potete già sentire comunque Un po' la differenza Dell'audio È peccato questo fruscio In sottofondo Che va a creare Ma è risolvibile Facendo appunto la pulizia Del rumore mediante audacity Oppure mediante altri programmi Jens' moment Non è che li prenda tanto bene Come il Blue Yeti Ricordo che ora siamo nella modalità cardioide Che non è comunque quella che utilizzo con il Blue Yeti L'altra modalità che permette di registrare il Maono È la modalità omnidirezionale Quindi che prende principalmente tutto Ora ve la faccio ascoltare E sentirete la notevolissima differenza Bene Eccoci nella modalità omnidirezionale Realizza un suono davvero molto Molto Ovattato Che è percepibile Tutto intorno E come si può già sentire L'audio è davvero molto Ma molto Ma molto più pulito È solo che è certo Crea questo effetto Che ovviamente Può non essere ben accetto Più che altro Per me Che porto contenuti ASMR E quando questo audio A me non sembra Molto Opportuno Quello più adatto È di certo Questo cardioide Che cerca di avvicinarsi A quello del Blue Yeti Un po' di scratching Sulla capsula del microfono Che devo dire Viene davvero molto Molto bene Direi di testarci Qualche suono Comunque devo dire Che a me di qualità Non dispiace Affatto Ditemi cosa ne pensate voi Ecco ripeto L'unica pecca È questo fruscio Che ovviamente Regolando Comunque Settando la perfezione Non scompare Quindi prendiamo Qualche suono Da Da provare Ad esempio I nostri carissimi Gelatini squishy Mi piace Mi piace molto Molto Come li capta Assolutamente Buonissimo Tra l'altro Questo Dei gelatini Sappiamo ormai Che è un suono Impattibile Che fortuna Che li ho trovati Magari questo microfono Potrei provarlo Anche in qualche live Chi lo sa Tra l'altro Se ancora non mi seguite Sul canale Viola Trovate il link Nella descrizione Direi ora di passare A te Un suono Un po' Accuso E che non riporto Da diverso tempo Ovvero Il suono Di questi squishy Ciao a tutti Suono davvero, davvero piacevole Peccato che in confezione non diano un filtro anti-pop Direi ora di testare un po' i mount sound Tico 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 ticcol 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 Niente, niente male Bene, ditemi nei commenti quindi cosa ne pensate della qualità di questo microfono AU903 Maono Per me passa il test non a pieni voti a causa di questo suono che produce in sottofondo Direi ora di andarlo a confrontare con il proietti Bene, ci troviamo ora dinanzi a proietti e Maono Possiamo paragonarli come madre e figlio Vedete la differenza di grandezza e vi posso assicurare che c'è grande differenza anche di peso Qui individuiamo il tasto per mutare il microfono e quello del volume Quello per mutarlo ad esempio sul Maono non lo troviamo E diciamo che è giusto una chicca in più che ha il proietti ma niente di davvero indispensabile Ok, passiamo ora alla zona posteriore Qui andiamo ad individuare nel proietti Innanzitutto la rotella del cane che è posta invece nella parte anteriore per il Maono Oltre a questo individuiamo anche la rotella per cambiare e selezionare le varie modalità di registrazione Che nel proietti sono ben quattro A differenza del Maono che ne ha soltanto due Ma diciamo che è presente a quelle indispensabili e più utilizzate Bene ragazzi, rieccoci qui tornati con il bluietti Tirando le somme non mi resta che dire davvero che è questo microfono Maono AU903 è davvero un microfono di qualità Di fascia medio alta Che consiglio per chi ha intenzione di cominciare a portare contenuti Di qualità un po' più alta Oppure proprio per chi deve semplicemente cominciare È già un piccolo investimento perché comunque 80 euro non sono pochi Ma devo dirvi veramente un pensierino su di lui ce l'andrei a fare Certo, se non vi piace troppo quel fruscio di sottofondo Dovrete un attimo pulire l'audio con audacity Cosa che non è affatto difficile e online Trovate davvero tantissimi tutorial Quindi questo microfono si becca un bel mio Sì, è approvato Ringrazio ancora l'azienda Maono che me l'ha spedito E vi ricordo che in descrizione trovate il link per poterlo acquistare Qualora siate interessati Detto questo Io spero che questa nuova puntata del Pietro SMR Tech vi sia piaciuta E non posso fare altro che augurarvi una tranquilla Joyosa e serena Notte, notte, notte Grazie a tutti Grazie a tutti